salvi a tutti e bentornati su sai che web tv pino oggi di cosa parliamo parliamo che vedo tanta gente che passeggia all'alba al tramonto sotto al sole con il freddo mi domando ma fanno bene a camminare donato tu cosa ne pensi ciao da donato io personalmente dopo cena me la faccio sempre la camminata però anche di mattina non è male daniela tu cosa ne pensi ciao a tutti io sono d'accordissimo alla camminata infatti anch'io non vedo l'ora di iniziare perché credo che camminare sia una buona soluzione alla retenzione idrica di noi donne tu invece pino cosa ne pensi io penso che è tanto bello quando fai c'è il sole caldo ti metti in casa con l'aria condizionata mentre quando fa freddo accendi il termosifone e te ne sta a caso col freddo ma chi me lo fa fare sto tanto bene a caso sbivacato sul divano e tu valeria invece cosa ne pensi io sono innanzitutto ciao a tutti sono d'accordo con daniela con donato e un poco con pino va bene invece voi amici cosa pensate camminare fa bene scrivetelo nei commenti sotto il video sai che camminare fa bene scopriamolo insieme ciao a tutti ci troviamo a castellana grotta in provincia di bari sul piazzale delle grotte con isabella franco kinesiologo del benessere e presidente della asd apulia fit walking isabella mi spieghi un po che cosa vuol dire kinesiologo del benessere eccomi qua ciao a tutti ciao sai che web tv ciao valeria sono isabella franco e come hai detto sono un kinesiologo del benessere bene il kinesiologo del benessere è l'esperto del movimento è un laureato magistrale in scienze motorie che si occupa tutto tondo del benessere della persona bello e quindi come nasce l'idea di creare l'associazione di fit walking allora per il mio lavoro ho riscontrato l'importanza della camminata e i suoi benefici e il fit walking è un'arte l'arte del camminare bene cioè camminare bene per stare bene e grazie a degli amici e grazie al mio lavoro conosciuto un'associazione della calabria sd calabria fit walking il professor certo ma e mi sono innamorata di questa disciplina per cui perché non proporlo qua castellana che ha territorio ha a tanto da poter sfruttare e quindi insieme al professor giannelli abbiamo creato questa asd a puglia fit walking che è la prima società di fit walking in puglia isabella ma che cos'è il fit walking allora il fit walking è una disciplina sportiva che fa dell'arte del camminare bene la sua essenza e camminare bene per stare bene è stato maurizio da milano che ha inventato il metodo da milano perché tutti possano camminare bene e possono camminare il più velocemente possibile questa è il proprio l'arte del fit walking bello e chi lo può praticare allora il fit walking lo può praticare chiunque si può praticare ovunque e non ci sono limitazioni d'età noi abbiamo deciso di incominciare con i ragazzi dai 14 anni e con le persone un pochino più adulte 74 76 anni ma lo possono praticare chiunque per questo ho diviso i percorsi attraverso tre colori il colore fucsia è un giorno a settimana il percorso più intenso con una un percorso più lungo extra urbano sfruttando le bellezze di castellana e non è per tutti quindi qua devono per forza partecipare persone che hanno un minimo di esperienza poi ci sono i percorsi gialli con un'intensità moderata possono praticarlo chiunque non durano un'ora un'ora e 10 e sono tutti urbani quindi anche in questo caso per le strade di castellana e poi c'è il percorso verde a cui sono molto molto legata perché il percorso più leggero un'attività leggera che è soprattutto per gli over 60 per chi ha malattie metaboliche chi ha incominciato a camminare per la prima volta e ha una valenza per quanto mi riguarda molto più importante noi ci ritroviamo in un punto che io cambio ogni volta perché è bello che ci sia sempre qualcosa di diverso e sono il walking leader e quindi io conduco il percorso ci sono degli step facciamo un po di stretching degli esercizi di respirazione importanti e la camminata la conduco io quindi riesco a mantenere il gruppo compatto cambiando direzioni ho sempre il mio fischietto con me e questo è bello perché la socializzazione lo stare insieme quando tu non andresti a camminare da solo ma il gruppo ti trascina questo è quello che fa il fit walking isabella entriamo un po nello specifico com'è questo percorso fucsia il percorso fucsia è il percorso più intenso il percorso più lungo che noi facciamo una volta a settimana questo percorso mi permette di portare il mio gruppo in posti meravigliosi extraurbani arrivare a putignano siamo arrivati a conversano e siamo arrivati a san nicola di genna questo percorso parte sempre da un punto in paese e poi ci si snocciola e prende strade in salita e discesa posti meravigliosi che noi ormai conosciamo bene e durante il tragitto io ovviamente faccio delle pause queste pause servono per ricompattare il gruppo per prendere fiato per fare un po di stretching normalmente mi regolo anche su quello che il percorso non è mai lo stesso però è importante che il gruppo sia quasi sempre compatto nel nostro percorso fucsia abbiamo sempre una possibilità di andare più veloci laddove ci permette il territorio ma di ammirare quello che è il paesaggio noi abbiamo visto more abbiamo mangiato ciliegie abbiamo assaggiato fioroni quindi quelle cose che tu normalmente non vedi che non riesci a cogliere quando c'è stato il le bale di fieno siamo riusciti a fare anche delle foto quindi la valenza del percorso lungo è quello di poter veramente esplorare questo meraviglioso mondo che è quello della campagna di castellana e anche in questo caso non è precluso a nessuno di poterci di poterci partecipare può avere un condizionamento negli altri gruppi e poi quando è pronto sarò io stessa a inserirlo in questo percorso bellissimo wow che bello emozionante sicuramente veramente una bella cosa la vorrei provare il percorso giallo in cosa consiste allora grazie valeria allora il percorso giallo perché so giallo è diviso in percorso mattutino alle sei della mattina e noi partiamo sempre dai parcheggi quindi partiamo dal parcheggio delle grotte perché così è più facile avere un punto di riferimento per tutti e poi abbiamo il pomeriggio intorno alle 18 e 30 alle 19 almeno tre giorni a settimana dal parcheggio accanto alla piscina percorso giallo è il percorso moderato un ritmo che possono supportare chiunque che può supportare chiunque sfruttiamo le vie principali di castellana grotte ed è salita e discesa perché il condizionamento avviene apposta quando noi facciamo questi cambi di ritmo possono partecipare tutti senza problemi anche in questo caso c'è un riscaldamento iniziale ci sono degli step che durante la camminata sempre per ricompattare il gruppo per far rifiatare sfruttando anche i muretti a secco tutto quello che può essere utile e poi al termine facciamo degli esercizi di ginnastica del benessere perché perché la ginnastica del benessere è l'essenza dello stare bene quindi ognuno si porta il suo tapetino abbiamo dei bastoni e facciamo dei piccoli esercizi semplici a carico naturale che sono esemplificativi di quello che noi vogliamo promuovere bello anche questo beh a questo punto è rimasto il verde ecco il percorso verde allora il percorso a cui sono più legata proprio dal punto di vista emotivo perché ho creato questo gruppo che è un giorno alla settimana per gli over 60 ma soprattutto per chi vuole incominciare a camminare non vuole avere problemi non non ha non vuole avere difficoltà e a chi ha malattie metaboliche e è un percorso completamente diverso è un percorso con un ritmo leggero non ci sono attraversamenti cerchi cerco di utilizzare delle strade più tranquille perché l'obiettivo è quello proprio di poter concedere a tutti soprattutto a chi non lo ha mai fatto di potersi avvicinare a questa disciplina per cui il l'incontro è al parcheggio delle grotte e anche in quel caso c'è sempre un riscaldamento iniziale ci sono degli esercizi di respirazione degli esercizi per le braccia che faccio fare più frequentemente perché in questo caso ogni 15 minuti c'è una pausa proprio perché il la tipologia di chi partecipa a questi gruppi ha necessità di fare questo e anche questo comunque è condizionante e fa bene al cuore proprio bello grazie isabella quindi come si fa ad iscriversi andare con voi a camminare è semplicissimo partecipare alla mia associazione attraverso i social mi potete contattare sono sempre io l'unica e sola che 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 agisce in questo senso e venire a provare una camminata insieme a noi firmare un modo di responsabilità dopo che se piace se è una cosa che si può fare c'è l'iscrizione che è un tesseramento annuale noi siamo siamo iscritti al exen oltre che alcuni e con questa iscrizione si può partecipare a tutte le uscite a tutti i percorsi in base alle proprie esigenze grazie mille isabella è stato molto interessante e anche molto motivante sono io che ringrazio voi per avermi dato questa opportunità spero che questo spinga tante persone ad avvicinarsi alla mia società e al fit walking grazie sai che web tv per la bellissima esperienza grazie valeria sai che può interessare o coinvolgere anche te ciao 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 Grazie a tutti.